Non vi è mai capitato di ascoltare qualcuno che dice il jazz è morto? Come affermazione o come questione da porsi, ma il jazz è morto, ma dove andremo a finire noi jazzisti? Ma secondo me il jazz non è morto per niente, vive benissimo, si è evoluto, esistono i musicisti che perseguono la divulgazione del jazz tradizionale, che forse tra i vari stili di jazz è quello che è rimasto purtroppo, secondo me, un po' di nicchia, talvolta perché i musicisti stessi che suonano New Orleans, Dixieland e Swing hanno un atteggiamento integerrimo verso quell'idioma e non accettano compromessi. Poi in tutti gli altri stili di jazz ci sono tantissime contaminazioni, anche con gli artisti pop. Da tanti anni ormai esiste questo gruppo Malia, con Massimo Ragneri, Enrico Rava, Rita Marco Tulli, Stefano Di Battista, Riccardo Fioravanti e me, così come sono anni che esistono i progetti jazzisti, artistici di Gino Paoli, ricordo un artista che amo tantissimo, Fabio Concato, anche con lui seppur poche volte, ahimè, sono riuscito negli anni a fare delle cose meravigliose, non parliamo di Ornella Vanoni che con Paolo Fresu collabora da decenni e via dicendo, quindi c'è il jazz tradizionale mantenuto in vita da questi appassionati, apro e chiudo una parentesi, mi piacerebbe tanto che i giovani si avvicinassero al jazz tradizionale, però fin tanto che rimane una nicchia chiusa in una sorta di ghetto e da lì non esce, trovo che sia molto difficile che i giovani si possano incuriosire su quell'idioma, che tra l'altro è quello che ha dato i Natali a tutta la musica del Novecento, a parte la musica classica, quindi dovremmo essere quantomeno curiosi nel comprendere come è nato il jazz attraverso questi pionieri meravigliosi. Io nel mio piccolo con la didattica è quello che faccio e che farò sempre, divulgare il jazz tradizionale, indipendentemente che poi io o qualsiasi allievo poi suoni tutt'altro, io non suono più Dixie né da vent'anni, ma ho il dovere morale e artistico di parlare di un genere musicale che ha dato i Natali a tutto quello che oggi suoniamo. Poi ci sono i progetti, quelli che strizzano anche l'occhio al botteghino, quindi il grande artista pop che si avvale di grandi musicisti di jazz e poi c'è tutta una serie di gruppi, bebop, hardop, free, di tutto, cioè il jazz è un idioma che si è ampliato, amplificato enormemente. Come esiste nella letteratura Platone, Socrate, Leopardi e Manzoni che saranno ripubblicati per secoli o nei dischi Bach, Mozart, Schumann, Verdi, Puccini e ci sarà sempre Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Kaunbesi, Duke Ellington, il Quintetto di Mais, Coltrane, Parker eccetera eccetera. Il jazz è da sempre considerato una forma d'arte non massificata, anzi oserei dire che grazie a quello che è stato fatto negli anni 70 quando ero ragazzino, in televisione, i programmi di Franco Cerri o i grandi spettacoli del sabato sera, sempre con delle orchestre della RAI, con dei direttori di orchestra, degli arrangiatori meravigliosi e poi programmi che erano presentati da Lelio Lutazzi, da Simonetti, ospiti, ascoltavi di tutto, c'era Lucio Battisti e dopo c'era il trio di Harold Garner. Ecco, quegli anni lì la televisione aveva un ruolo divulgativo enorme, io sono tra quei ragazzini che ascoltava tutto e grazie alla televisione ho deciso poi quale strada musicale intraprendere e approfondire. Oggi non è più così, vabbè pazienza, meno male che ogni tanto c'è qualcuno che decide di dedicare uno spazio televisivo a una trasmissione come quella di Stefano Bollani, ce ne fossero di più. Poi non meravigliamoci, ci sarà sempre lo scandalo da parte del jazzista purista che vede il nuovo artista con i tatuaggi sulla faccia e le piume e dice dove andremo a finire, vabbè a quelle cose lì non do il minimo peso perché il dove andremo a finire lo scandalo, da quando ho iniziato a suonare ce n'è sempre stato uno, mi ricordo quando è uscito Renato Zero, che scandalo, vabbè, posso immaginarmi quando ho iniziato a suonare Louis Armstrong, ma che scandalo, ma cosa fa questo qui, perché fino al giorno prima erano abituati ad ascoltare i trombettisti che suonavano in un certo modo, poi è arrivato Satchmo e ha scombussolato il mondo. Mi immagino anche allora quanti abbiano detto, ma cos'è sta roba, non è più jazz, dove andremo a finire? Vabbè, quindi le polemiche ci saranno sempre, ridiamoci sopra, cerchiamo di prendere tutto con leggerezza, suoniamo quel cacchio che ci pare, quello che ci piace e altrettanto faranno gli altri. Ecco, se poi a me piace ascoltare Bach e a un altro piace Casadei, che meraviglia, meno male che viviamo in un mondo così ampio, così come ci sono mille pietanze da assaggiare per scoprire sapori nuovi, nonostante le nostre preferenze culinarie, meno male che c'è tanta musica, tanti generi da ascoltare, più impegnati, più artistici, più poeti, più leggeri, più divertenti, più drammatici e meno male, sai che noia se fosse tutto jazz o tutto musica classica. Quindi ragazzi, il jazz non è morto un cazzo, anzi sta benissimo, a mio avviso. Anche questa è una delle frasi che sento dire da quando ho iniziato a suonare. Il jazz è morto, voi giovani che futuro avrete, i dischi non si vendono, i concerti non si fanno e poi è arrivato il covid, aiuto, complotto, non si suonerà mai più e invece si sta riprendendo. Il jazz vive benissimo e per fortuna è una musica che si è evoluta. Possiamo ancora oggi nel 2021 e oltre ascoltare Jelly Roll Morton, ma possiamo anche ascoltare San Ra, c'è di tutto, meno male che è così. Lo stesso vale per il rock, per il pop eccetera eccetera. Bene, viva il jazz!